Dianne Essi non ti meritano Già mi hai raccontato questa storia Che posto è questo? Voi chi siete? Siamo il ponte per una maggiore comprensione fra i miei uomini Certo Qual è la tua missione? Allora, ecco Non sapete il pericolo che correte Io vado, madre Sai che se decidi di partire Non potresti non fare il ritorno Se io rimanessi chissà bene Prima no Grazie a tutti Grazie a tutti